6 milioni di euro per la capitalizzazione delle piccole imprese, 4 milioni e 8 per il turismo sulla neve, 2 milioni e 8 per discoteche, intrattenimento e organizzazione e cerimonie, 592 mila euro per parchi tematici e divertimento. Sono questi i numeri dei ristori Covid che la Regione Marche è pronta a riversare su attività produttive e turistiche, incamerando oltre 14 milioni di euro di fondi statali con destinazione vincolata a categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza pandemica. Importanti contributi a fondo perduto che danno una parziale risposta all'invocata richiesta di ristori dell'anno passato. Alcune categorie erano già state individuate, sicuramente sono quelle che hanno avuto un danno non solo vigente ma che anche tutta l'estate hanno patito, come le discoteche chiuse, la filiera dei matrimoni, degli eventi, dei pubblici spettacoli, i trasporti turistici e i parchi tematici. Con queste risorse, con 2 milioni e 8, copriamo questa parte di imprese. Con 6 milioni di euro invece abbiamo deciso di creare un basket a disposizione dei confidi presenti sulle marche per poter fare un contributo a fondo perduto per ricapitalizzare e patrimonializzare le imprese. Cosa significa? Che ogni imprenditore che vuole versare il capitale sociale per migliorare il proprio rating con le banche, quindi poter accedere di nuovo ai finanziamenti o poter ripartire dopo le moratorie, possa avere un contributo pari al 50% del versato. Le domande per accedere ai contributi partono dal 17 gennaio con termine 11 febbraio. Fra i beneficiari anche una categoria fin qui bloccata, come quella legata alla ricettività del turismo invernale sulla neve. C'è un segmento di nicchia molto importante che riguarda tutta l'industria degli esporti invernali della nostra regione perché sono stati stanziati sempre nell'ambio di questi ristori stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive e anche 4 milioni e mezzo sostanzialmente per tutte le attività connesse all'esercizio delle attività di scissi e quant'altro. Nel luglio dello scorso anno avevamo individuato i comprensori scistici perché non era stata mai fatta una mappatura di quelle che erano solo tuttora le aree economicamente rilevanti per l'esercizio di attività degli sport invernali, lo abbiamo fatto e ora abbiamo stabilito dei criteri di ristoro che andranno soprattutto ai codici Ateco che riguardano le imprese connesse al turismo invernale.